...la via dell'ultima grande ristrutturazione che tra l'altro ha privato il campanile dell'originale apertura a coppia sostituita da un'antestetica struttura di cemento, ma numerose sono le opere pittoriche e le sculture degne di nota. Nel battistilo è un tabernacolo marmone attribuito allo scultore setile Paolo Romano del XV secolo. Nello stesso luogo ci sono i resti dell'antico a Moni e la grande vasca battesimale che fino al 1902 è servita per la celebrazione dei battesimi di tutte le parrocchie cittadine. Tra le opere di maggior pregio va ricordata l'icona del Cristo Salvatore, opera di Giovanni da Gaeta che la realizzazione nel 1472, la grande tela della Madonna degli Orfani dipinta nel 1602 dal Ventivegna, il più recente basso rilievo della stigmatizzazione di San Carlo da Sezze ed il paliotto marmorio della cena di Emmaus entrambi realizzati dal Venturini nel 1962. L'altare maggiore contiene l'urna con i resti di San Lidano d'Antena, padrono della città e della diocesi ed è sovrastato dal baldacchino ligno di stile borrominiano che Jean Poiré realizzò nel 1672. In un'urna originale dell'epoca sono conservate le spoglie di San Leonzio, martire dei primi secoli del cristianesimo e dal 1999 la cappella dedicata a San Carlo da Sezze ospita le reliquie corporali di un altro straordinario figlio di questa terra, il venerabile Fra Bonifacio da Sezze, con decreto della congregazione dei Vescovi del 1986, la cattedrale di Santa Maria, già insignita da Venedetto XIII nel titolo di Basilica e con cattedrale della diocesi di Latina Terra Scina, Sezze e Priverma. La celebrazione, preseduta dal palolo Don Giordano Pisonelli, inizia con la recita del Santo Rosario, cui seguiranno le logie di giovedì prima settimana e la Santa Messa. All'organo il maestro Enrico Perluti. Buon aspetto. Questa giornata apriamo il nostro cuore alla preghiera e con il Rosario, dolce catena che ci rannoda a Dio con Maria, vogliamo lodare il Signore attraverso i misteri della luce. Mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù venne da Nazareth al Giordano per farsi battezzare da Giovanni. Appena Gesù fu battezzato uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cari e lo Spirito di Dio scese come una colonna sopra di Lui. Ci rivolgiamo a Te, carissima Maria, affinché lo Spirito di Dio scende anche su chi no. Approvaci, Dottoressa Madre, con il coraggio di prendere il nostro cuore, l'unico dono che può colmare la nostra sede infinita di effetto e di felicità. Ti rivolgiamo a Maria a comunicare anche gli altri la forma dello Spirito di Dio. Padre nostro che sei in te, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Padre nostro che sei in te, sia santificato il tuo regno, sia santificato il tuo regno, sia santificato il tuo regno, sia santificato il tuo regno. Padre Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. mi sembra meglio di fare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gesù mio, per adorare le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua nascita. Grazie a tutti. 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 tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Terzo mistero, Gesù, annuncia il regno di Dio e invita alla conversione. O Maria, donaci la forza di lasciarci prendere per mano da Dio, che ci ama immensamente, allontani le nostre timore e le nostre paure, affinché possiamo aprire il nostro cuore alla grande dinamità del Vangelo. Facci comprendere che solo l'amore del Signore è l'unica cosa che ci può dare felicità. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato è il tuo nome. Venga il cuore io, sia fatta la tua volontà, come il cielo così interna. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il tuo nome. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le aline, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tavolo. Dolce Madre del Cielo, rendi dolci le parole di Dio alle nostre orecchie, frastornate dai rumori del mondo, ed incapaci di ascoltare i canti d'amore del Figlio di Dio. Insegna ad ascoltare nel silenzio le parole che Egli ci rivolge, ed a notare con Lui un dialogo misterioso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in ceno, così in terra. Grazie a tutti i nostri figli, e a notare con 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 i nostri figli, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre Migno, prevede il tuo seno Gesù. Adesso è il tuo regno, e a notare con i nostri figli, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.